Esame di coscienza Il discorso filosofico, in ultima istanza, è finalizzato alla vita concreta. È utile nella misura in cui aiuta il soggetto filosofante a vivere meglio, a trasformare radicalmente il proprio stile di vita, il che è possibile soltanto incarnando tale discorso, assimilandolo in profondità. Pertanto il carattere di un uomo non si rivela dal contenuto astratto dei suoi discorsi e tantomeno da un parlare ricco e facondo che rimane però fine a se stesso, bensì dal sapere agire coerentemente al pensare e al dire, ovvero dall'intima coerenza tra logos e bios, quella che i greci chiamano appunto omologhia. Nella prassi, e anche il saper ricercare attraverso il logos è a tutti gli effetti una forma di prassi, ciascuno diventa quello che è, mostrando agli altri e a se stesso la sua natura, interpretata in maniera più o meno autentica. Prendere coscienza di sé e diventare se stessi significa allora riflettere accuratamente sul proprio agire, analizzando il comportamento cui si è adusi in base al concreto ventaglio di possibilità etiche che ci si dispiega dinanzi. Con questo intendimento, gli antichi ci consigliano di dedicare quotidianamente un piccolo spazio del nostro tempo alla riconsiderazione di quanto vissuto e fatto nel corso della giornata, riflettendo sulle reazioni, sugli stati emozionali che si sono succeduti dal risveglio alla sera, nonché sulle più profonde motivazioni dove tali emozioni hanno tratto origine, evitando magari di prendersi in giro. Sarebbe il caso. Mentire a se stessi, ignorare e camuffare stati d'animo, accumulare autogiustificazioni cieche e stiracchiate è un'arte in cui è facile accellare tra sé e sé, nessuno escluso. Il cambiamento che ciascuno di noi vorrebbe vivere dovrebbe partire proprio da questa sorta di bonifica interiore. Autoparresia, cioè franchezza con se stessi, purificazione, operazione di verità, chiamatela come preferite. Pretendere di pulire il mondo, di salvaguardare l'ambiente, di allontanare la cosiddetta crisi climatica, senza cominciare col prendersi cura della propria interiorità, è semplicemente ridicolo, quando non sia fin anche ipocrita. Non per niente il fare filosofia, nel senso più calzante del termine, nasce proprio da questa vocazione a prendersi cura di sé e degli altri, ricercando insistentemente il bene della propria anima e di quella dei propri interlocutori. Cittadini ateniesi, io vi amo e vi rispetto, ma ubbidirò al Dio piuttosto che a voi, e finché avrò respiro e sarò in grado di farlo, non smetterò di fare filosofia, di consigliarvi e di insegnare a chiunque incontri di voi, dicendo, come sono solito, «Oh, ottimo uomo, tu che sei ateniese, della città più grande e famosa per sapienza e forza, non ti vergogni di preoccuparti dei soldi per averne più che puoi, della reputazione e dell'onore senza però curarti e darti pensiero della saggezza, della verità e dell'anima perché sia la migliore possibile? E se qualcuno di voi mi contesta, affermando di prendersene cura, non lo lascerò subito andare, né me ne andrò io, ma lo interrogerò, lo esaminerò e lo confuterò. E se mi sembrerà che non abbia virtù, se non a parole, se non a chiacchiere, lo rimprovererò, perché disprezza quello che vale di più e apprezza quello che vale di meno. Farò questo a chiunque incontri, giovane e vecchio, forestiero e cittadino, ma soprattutto ai cittadini, in quanto mi siete più vicini per nascita, perché questo è quello che mi ordina il Dio. Tenetelo presente e io penso che alla città, finora, non sia accaduto nessun bene più grande del mio servizio al Dio. Platone, Apologia di Socrate, 29 di 30a. Quello che avete ascoltato era un passaggio del celebre discorso apologetico che Socrate tiene dinanzi alla giuria dei suoi concittadini durante il processo che lo vedrà condannato a morte. Il testo è tratto, come abbiamo detto, dall'Apologia scritta da Platone. Gli fa eco il maestro stoico Epitteto, manuale 28, paragrafo 28, il quale raccomanda di aver cura soprattutto della propria mente, della propria interiorità, non lasciando che essa sia soverchiata dalle emozioni negative. Se qualcuno affidasse la tua persona al primo che incontra, ti adireresti. E tu che affidi la mente a chi capita e, se questi ti insulta, la lasci cadere nel turbamento e nella confusione, non te ne vergogni? L'esame di coscienza in senso filosofico non va confuso con l'omonima pratica religiosa di sapore cattolico-cristiano. Non è l'anticamera della penitenza né precede un atto di contrizione funzionale al sacramento della confessione. In altre parole, si tratta di un dialogo con se stessi in cui non compare come ulteriore interlocutore il divino fattosi persona, il che significa che non faccio i conti con me stesso dinanzi al divino, invocandone implicitamente o esplicitamente il perdono e la comprensione. L'esercizio spirituale è fine a se stesso. Di fatto, analizzando pensieri, emozioni e azioni, non li confronto in maniera più o meno acritica con una tavola di valori prestabilita, dettata da una logica eteronima, quella di Dio appunto, in molti casi pergiunta solo superficialmente assimilata, ma li sottopongo a vaglio critico, giudicandoli per come si manifestano la coscienza riflettente. L'esame, se ben condotto, è pura attività di ricerca, che prevede il momento del ricordo, la capacità di rivivere di cuore, il latino corcordis, quanto sperimentato in precedenza, attualizzandolo, con l'aprirsi a una diversa percezione del tempo, non più spazializzato, indietro e in avanti, ma presenzializzato, centrato sull'attimo in sé, quello squisitamente teoretico, dell'ascolto e della contemplazione, col farsi altro da sé, spettatore del proprio essere al mondo, catarticamente presente e distante al medesimo tempo. E, infine, quello più propriamente scettico e critico di ricerca, in greco, schepsis, dialogica, dialogos, e di giudizio, crino, giudizio consapevole, evidentemente. Come in tribunale, è la stessa metafora che utilizza Kant nella critica della ragion pura, si ascoltano i testimoni e li si interroga, si passano al vaglio le loro posizioni, prima di giudicare con equanimità e senza passione. Secondo la formula latina, sine studio et sine ira. L'esame di coscienza, filosoficamente inteso, è un esercizio di giustizia, in un certo senso, volto ad aprire nuove prospettive di comprensione e di azione in termini proattivi, positivi e non meramente reattivi, vendicativi, autopunitivi, unbrutificanti. Ad ogni aspetto della realtà, così come si è manifestata la propria coscienza, occorre rationem reddere, rendergli ragione, cercare di dargli voce senza pregiudicarlo in nome di un bene o di un male prestabilito, eteronomo appunto che deriva da una tavola della legge dettata da questo o da quel Dio. Facci conti con la mia coscienza che è coscienza razionale. Questo è un punto assolutamente centrale, senza libertà di fatto non vi è giustizia e senza riconoscimento non vi è vera libertà. Bisogna evitare che sulla cattedra del giudice sia si da comoda a critica mole del senso comune, drappeggiata e paludata di pregiudizi, più o meno falsamente scintillanti. Nostra deve essere la cattedra affinché il processo non si trasformi in una farsa dall'esito scontato. L'esame di coscienza in ultima istanza è un atto di libertà, anzi, l'atto di libertà per eccellenza. Da esso, come da una sorta di causa prima, discendono effetti a breve e a lungo termine che si spandono sulla nostra e sull'altrui esistenza come cerchi concentrici nello stagno. In un certo senso tutto è fatto di coscienza. Occorre che il giudice sia compassionevole, ma non a condisciendente. Dinanzi a lui sfileranno il padre e la madre, il prete, il maestro, così come la cattone e lo sguardo fugace dello sconosciuto, il volto amato e ciò che suscita ribrezzo, l'amico e il nemico, il distante e il quotidiano, l'ordinario e il meraviglioso. A nessuno si concederanno privilegi particolari, il che non significa, si va di bene, neutralità e insensibilità, quanto piuttosto consapevolezza dell'impermanente teatralità della vita. Ma ascoltiamo, senz'altro, dalla viva voce degli antichi, cosa si intende esattamente per esame di coscienza. La filosofia, qui, non è sterile ricerca intellettuale, fine a se stessa, bensì arte del vivere, tecne tu bio, in greco, applicata a se stessi e volta al miglioramento morale, al conseguimento di una dimensione esistenziale più ricca e veritiera. Così Seneca, nelle lettere a Lucilio, capitolo 6, 1, 2. Lucilio caro, mi rendo conto che non solo mi sto correggendo, ma addirittura mi trasformo. Intellego, Lucili, non emendari metantub, sed transfigurari. Certo, non garantisco, e nemmeno spero, che non ci sia in me più nulla da cambiare. E perché non dovrei avere ancora molti sentimenti da frenare, da attenuare, da elevare? Vedere difetti che fino ad allora ignorava? Proprio questa è la prova di un animo che ha fatto progressi. Con certi malati ci si rallegra quando prendono coscienza del loro male. Ci terrei dunque a farti conoscere questo mio improvviso cambiamento. Cuperem Itaquetecum comunicare tam subitam mutazione mei. Allora comincerei ad avere una più salda fiducia nella nostra amicizia, quella vera che non la speranza, non il timore, né la ricerca del proprio interesse può spezzare, quella amicizia che dura fino alla morte e per la quale si è pronti a morire. In presenza di un amico vero come lo è Lucilio per Seneca il risultato dell'esame di coscienza stoico si apre alla comunicazione interpersonale come avete visto, ad una specie di confessione in cui l'amico diventa terzo offrendo una sponda accogliente al dialogo tra sé e sé il cui punto di partenza è la consapevolezza di aver sbagliato. Ancora Seneca che cita Epicuro da notare come le due scuole e peraltro la cerri e i merivali la stoica e l'epicurea su questo punto pratico-filosofico concordino appieno. Aver coscienza delle proprie colpe è il primo passo verso la salvezza. A me pare che Epicuro abbia espresso un concetto molto giusto. Se uno non sa di sbagliare non vuole correggersi. Devi coglierti in fallo prima di correggerti. Certi si gloriano dei propri vizi e tu pensi che cerchi un rimedio chi considera virtù i suoi vizi. Perciò per quanto puoi accusati, fa un esame di coscienza, assumi prima il ruolo di accusatore, poi di giudice, da ultimo quello di intercessore e talvolta punisciti. Sempre un passo delle lettere all'ucidio, capitolo 28, 9, 10. Rimproverare se stessi invece che inveire contro gli altri gli dèi o il mondo intero, come ci ricordano Diogene il cinico e Cleante stoico. Come si diventa maestri di se stessi? Quando si rimprovera per lo più a se stessi quello che si rimprovera agli altri. Diogene frammento 25 Cleante era solito rimproverarsi da solo. Ad Aristone, che una volta lo sentì e gli chiese chi è che rimproveri e egli ridendo rispose un vecchio che ha molti capelli bianchi ma è senza intelletto. Questo passo è tratto da Diogene Laerzio Vite dei Filosofi capitolo 7 171 I momenti della giornata più adatti all'esame di coscienza sono senz'altro il mattino appena ci si desta o la sera prima di prendere sonno. Le meditazioni mattutine aiutano a ben disporsi nei riguardi di quel che si vivrà nel corso della giornata una specie di promemoria anticipato di quello che potrà capitarci e che dovremo affrontare con saggezza. Sentiamo a questo proposito Epiteto di Atribe 4 libro 4 634 La mattina non appena alzato chiediti cosa mi resta da fare per acquisire l'impassibilità e l'assenza di turbamento. Chi sono io? Un corpo? Una fortuna? Una reputazione? Nulla di tutto ciò? Ma cosa allora? Sono un essere ragionevole? Allora cosa si esige da un tale essere? Ripassa nella mente le tue azioni. Che cosa ho trascurato di ciò che conduce alla felicità? Che cosa ho fatto di contrario all'amicizia? Agli obblighi della società? Alle qualità del cuore? Quale dovere ho messo in queste materie? Sul far della sera poi si torna a rammemorare quel che si è vissuto nel corso della giornata appena trascorsa. Per Cicerone è un po' come andare in palestra solo che qui si allena la memoria e la coscienza non il corpo. Come pitagorici per esercitare la memoria ricordo di sera ciò che ho detto ascoltato fatto ogni giorno. Questi sono gli esercizi dell'intelligenza questa è la palestra della mente in questi sudo e mi sforzo senza sentire una grande mancanza di vigore fisico. Ne parla Cicerone nella vecchiaia 1138. La sera è anche il momento in cui per predisporsi al cosiddetto sonno del giusto occorre placare le passioni in particolare spegnere l'ira. Sentiamo a quale psicofarmaco ci suggerisce di ricorrere Seneca. Tutti i nostri sensi devono essere indirizzati a fermezza. Per natura sono pazienti se l'animo smette di corromperli. Esso deve essere convocato ogni giorno alla resa dei conti. Era un'abitudine di sestio. Al cadere della giornata non appena si era ritirato per il riposo notturno interrogava la sua coscienza. Qual tuo male hai guarito oggi? A qual difetto ti sei opposto? In quale settore sei migliorato? L'ira allora cesserà e sarà più moderato l'uomo che sa di doversi presentare ogni giorno al giudice. C'è usanza più bella di questa? Di esaminare un'intera giornata? Che sonno segue questa inchiesta su se stessi? Quanto tranquillo, quanto profondo e libero dopo che l'animo o è stato lodato o ammonito e da osservatore e censore privato di se stesso ha concluso l'inchiesta sui suoi costumi? Io mi avvalgo di questa possibilità e mi metto sotto processo ogni giorno. Quando hanno portato via la lucerna e mia moglie che conosce la mia abitudine tace, io scruto l'intera mia giornata e controllo tutte le mie parole ed azioni senza nascondermi nulla, senza passare sopra nulla. Come a dire fare filosofia è meglio del benzo di azepine. Ma non fatelo sapere a Pfizer, altrimenti ci chiudono il canale. Caro saluto a tutti i miei ascoltatori e alla prossima lezione di pratica filosofica. Grazie.